Liliana e Franco Lombardi delle Campestre Intanto il conciato romano è qui, un bel vedere ma vi assicuro anche un bel sentire Allora Liliana, come nasce questa esperienza che poi ormai è conosciuta davvero in tanti? E' internazionale, possiamo dire così? Sì, non Montiale ormai, piace molto, piace molto Questa esperienza conciato romano e perché gli antichi romani in questa zona, Trebula, l'hanno sempre fatto Poi io nel 94 l'ho ripreso e quindi è arrivato a questo livello lavorandoci dietro Davvero tanto, ad onor del vero, anche grazie a Manuel Lombardi che si sta dando davvero tanto da fare Spesso lo vediamo in tv Va bene, a me mi fa piacere, è un grande onore avere un figlio che sta continuando questa bella cosa che io ho incominciato nel 94 E la porta avanti davvero con grande passione e con grande spirito di volontà Ecco, il papà Franco che è il vero lavoratore della famiglia, vero? Dicono così, sicuramente Certo Com'è la sua giornata? Cioè, si incomincia la mattina presto e mi portano il latte e faccio il formaggio Comunque è davvero una grande soddisfazione Per quello che si lavora, insomma, è un piacere lavorare E a noi fa molto piacere poter poi raccogliere la vostra testimonianza di una eccellenza Che è questa eccellenza del conciato romano Che ormai, come dicevamo con la signora, è conosciuto davvero in tutto il mondo Grazie a voi e grazie naturalmente alle campestre Grazie